Ehi ragazzi, ciao a tutti volevo solo informarvi che sto facendo la cazzata della vita ecco sta arrivando sono andato a pagare, dopo vi faccio vedere che cos'è sono appena uscito dall'ufficio e si va all'aeroporto per Londra mi è appena arrivato il messaggio che il volo è in ritardo di due ore merda erano dieci anni che ero venivo in questa città e siamo venuti qua a farci questo weekend in realtà per fare il babysitter corri corri se no l'azia ti prende corri a farci Papà non voglio vedere un cazzo Non vogliamo vedere un cazzo Ok ragazzi La cazzata che ho comprato E' questa E' il Mavic Pro ovviamente Per chi non lo conoscesse Dai andrò a fare dei video in giro Perché in casa è un peccato